Sono passati quasi cinque mesi da quando la SNAM ha allestito il suo cantiere a Casepente e avviato le operazioni di scavo, ma i cittadini non conoscono quale iniziative l'amministrazione comunale di Sulmona ha adottato a fronte della situazione fortemente anomala in cui continua a operare la multinazionale del gas. Una serie di prescrizioni non rispettate, secondo i Comitari Cittadini per l'Ambiente, che hanno inviato una lettera al sindaco Gianfranco Di Piero, al vice Franco Casciani e all'assessore Katia Dinisio per chiedere la verifica dei titoli della SNAM per la realizzazione dell'opera, nonché il sequestro del cantiere in caso di regolarità. Nella lettera i Comitati mettono in evidenza che la SNAM avrebbe potuto avviare i lavori per la centrale solo dopo aver ottemperato a 22 prescrizioni ante operam, così come espressamente stabilito dal Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale del 2011. Tale fondamentale condizione non è però stata rispettata. Infatti solo il 13 luglio il Comitato di Coordinamento via ha preso atto dell'ottemperanza di 4 delle 22 prescrizioni. Una decisione che i Comitati e i Cittadini comunque contestano sia a livello procedurale che di merito. Sta di fatto che a causa di tale violazione i lavori non potevano essere iniziati. Di conseguenza il decreto autorizzatorio per la realizzazione della centrale, secondo i Comitati, è da ritenersi decaduto il 7 marzo 2023, non essendo state rilasciate ulteriori proroghe a quella data. A riguardo i Comitati hanno presentato due mesi fa un esposto dettagliato agli avvenieri forestali che hanno interessato le problemi alla Procura. Al di là di quelli che saranno gli eseri giudiziali della vicenda, il Comune non può restare a guardare, perché la materia urbanistica e quella della tutela del territorio è di diretta competenza dell'amministrazione comunale, scrivono i Comitati, che hanno chiesto formalmente a Sindaco all'Aggiunta Comunale di accertare, attraverso i propri organi, se la SNAM sia in possesso di titolo valido. Qualora tale titolo non esista, di adottare ogni opportuno provvedimento, non escluso il sequestro del cantiere. Grazie. Grazie.